Estate 1987, il Parma partì a razzo con in panchina Zeman, un precampionato davvero bello, con tre successi, battuta la Roma, battuto il Real Madrid, ebbene sì, 2-1 al Tardini con la rete di Gambaro e Turrini e la rete inutile del Real di Butraghegno, e poi il pezzo forte, Coppa Italia. Il Parma va a San Siro, a Milano, contro il Milan di Arrigo Sacchi, appena accommiatatosi da Parma. Vince il Parma ai rigori, sembra l'inizio di un grande capitolo. Purtroppo però quell'estate per il Parma così raggiante durò solo poche giornate. Zeman infatti venne esonerato, al suo posto Giampiero Vitali, ma quell'estate 1987 durò il giro intenso di una sigaretta, come quelle del Boemo, estate 1987. Buon Ferragosto a tutti!